ciao oggi siamo di nuovo insieme per un allenamento di circuit training intenso per i day runners che sono costretti a casa indicazioni sull'esecuzione riscaldamento 3 5 minuti step utilizzando il panchetto recupero tra ogni serie di esercizi con l'utilizzo del panchetto sempre 3 minuti e ciascun esercizio lo andiamo a eseguire dai 30 secondi al minuto buon allenamento e ricordate io sto a casa ma mi alleno